Ma se a Milanello ancora non c'è arrivato, incontra Pato sulla strada che gli dice sale in macchina, ti ci accompagno io, allora diventa un giorno da raccontare. Avete fatto l'autostop? No, noi stavamo camminando, Pato ci fa dove stavate andando e io ho detto stavo andando a Milanello e lui ci fa salita. Anch'io, abbiamo portato qui. È successo a questi tre ragazzi, scortati dal brasiliano e lasciati a poche decine di metri dal centro sportivo rossonero con tanto di firma sulla maglia, è il loro giorno fortunato.